Ciao ragazzi, breve e semplice storia dell'Unione Sovietica, dalla nascita avvenuta nel 1922 fino al definitivo crollo e dissoluzione del 1991. Tutto però inizia con la rivoluzione di febbraio e poi soprattutto quella decisiva di ottobre del 1917, che aveva portato in Russia alla caduta dell'impero degli czar, l'ultimo fu Nicola II, e la conquista del potere da parte del partito bolcevico comunista guidato da Lenin. Come scritto nelle sue famose tesi di aprile, pochi mesi dopo la Russia si ritira dalla prima guerra mondiale, firmando la pace di Brest-Litovsk. Segue una guerra civile tra l'armata rossa, ovvero i rivoluzionari bolcevichi, e l'armata bianca, formata dai contro-rivoluzionari repubblicani più moderati, che erano appoggiati e sostenuti anche da Gran Bretagna e Francia. Alla fine però vince l'armata rossa guidata da Trotsky. Così, il 30 dicembre 1922 nasce ufficialmente l'URSS, ovvero l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Si avvia anche una radicale riforma del sistema economico e politico, basato soprattutto sulla collettivizzazione delle terre e di tutte le strutture produttive, quindi anche le fabbriche. Questo era il primo tentativo di dare una concreta realizzazione a quelle idee maturate da Karl Marx e da altri pensatori socialisti, come ad esempio la limitazione, se non proprio l'abolizione totale della proprietà privata. La bandiera sovietica era con uno sfondo rosso, la falce che rappresenta i contadini, il martello che rappresentava gli operai e una stella che era il simbolo dello Stato. Lenin muore nel 1924. Si apre uno scontro per la successione, soprattutto tra Trotsky e Stalin. Quest'ultimo proprio prende il potere e vi resterà dal 1922 fino al 1952. In campo economico tutte le attività produttive, quindi agricole, le fabbriche, furono rigidamente pianificate secondo i piani quinquennali. Con i piani quinquennali quindi si individuavano determinati obiettivi da raggiungere in un periodo di cinque anni e lo scopo principale era appunto trasformare l'Unione Sovietica da una società ancora agricola e arretrata in una potenza industriale. Quindi molta importanza fu data all'industria pesante, come ad esempio l'acciaio, quella siderurgica, l'industria militare e al contempo migliorando anche varie infrastrutture come strade, ferrovie. Però tutto questo trascurava l'industria leggera e soprattutto l'agricoltura, con i contadini che furono anche costretti a migrare verso le città industriali, per cui come conseguenza si ebbe che la produttività delle campagne rimase bassissima. A questa si aggiunsero anche violente e gravi carestie, per cui i morti per fame furono milioni. In più Stalin attuò anche durissime repressioni nei confronti dei kulaki e anche nei confronti degli oppositori politici, che furono deportati nei gulag, ovvero una sorta di campi di concentramento per i dissidenti del regime. Quello di Stalin infatti a tutti gli effetti era un regime con il culto della personalità di Stalin, c'era un unico partito e c'era appunto questa repressione degli oppositori. Però tutto questo si saprà soltanto dopo la morte di Stalin, che vedremo dopo. Nonostante tutti questi punti oscuri però, l'Unione Sovietica fu protagonista di una grande crescita economica. Infatti divenne la seconda potenza al mondo dopo gli Stati Uniti. E dopo la seconda guerra mondiale si affermerà ancora di più come superpotenza. Inoltre si ebbero anche alcuni progressi sociali, con la riduzione dell'analfabetismo, altissime percentuali di laureati in materie scientifiche e fu introdotto il sistema sanitario gratuito. Alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, Stalin e Hitler avevano stipulato un patto di non aggressione, il famoso patto Molotov-Impertrop, che però fu tradito da Hitler nel 1941 con l'operazione Barbarossa, in cui si diede appunto avvio all'invasione della Russia. I russi però resistettero quasi eroicamente, ma anche a prezzo di tantissime vite umane. E simbolo di questa resistenza fu quella di Stalingrado, da cui i russi iniziarono un'avanzata inarrestabile, che li porterà per prima ad entrare a Berlino. E con circa 23 milioni di morti, l'Unione Sovietica ha avuto un ruolo decisivo per la definitiva sconfitta della Germania nazista. Piccola curiosità, furono proprio i russi a scoprire e liberare il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, il 27 gennaio del 1945. Dopo la seconda guerra mondiale, l'URSS continua la sua crescita economica e industriale e insieme agli Stati Uniti formano le due superpotenze mondiali. Inizia quindi il periodo della guerra fredda, ovvero questa contrapposizione, queste tensioni tra le due superpotenze, USA e URSS, con il mondo e soprattutto l'Europa divisi in due blocchi. I paesi occidentali sotto l'influenza degli Stati Uniti, uniti dal patto militare della Nato, e i paesi orientali, i paesi dell'est, sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, con l'alleanza militare del patto di Varsavia. Per fortuna le due superpotenze non si attaccano mai direttamente, anche perché entrambe avevano le armi nucleari. Però entrambe continuano alla corsa agli armamenti, cioè a chi ha le armi più potenti, e competono anche per la conquista dello spazio, con i russi che inizialmente sono in vantaggio. Inviano le prime sonde, lo Sputnik, il primo uomo, Yuri Gagarin, ma gli americani nel 69 inviano i primi astronauti sulla Luna. Nel 1953 muore Stalin e alla guida del partito e anche dell'Unione Sovietica gli succede Nikita Khrushchev, che subito denuncia tutti i crimini perpetuati da Stalin, le grandi purghe, i gulag, il regime oppressivo, avviando quindi quel processo che è stato definito di destalinizzazione. Per cui veniva abolito questo colto di Stalin, rimossi tutti i metodi oppressivi, meno censura e anche chiusi i gulag. Inizia anche un periodo di fase distensiva durante la guerra fredda tra Khrushchev e il presidente americano Kennedy. Non mancarono però momenti di altissima tensione tra i due uomini politici di USA e URSS, come ad esempio la crisi dei missili di Cuba del 1962. Ci fu anche la guerra in Vietnam, tra Vietnam del nord, sostenuto dai russi, e Vietnam del sud, sostenuto dagli americani, e poi successivamente anche l'invasione dell'Afghanistan. Dopo Khrushchev nel 1964 gli successe Leonid Brezhnev, famoso anche per la sua dottrina Brezhnev o dottrina sovranità limitata, in cui in sostanza si diceva che i paesi del patto di Varsavia dovevano mantenere la loro fedeltà all'ideologia comunista e seguire appunto il modello sovietico. Se questo non fosse stato rispettato allora i russi potevano intervenire con la forza, cosa che in effetti accadde dopo la primavera di Praga e la dura repressione in Ciecoslovacchia. Brezhnev restò al potere per quasi vent'anni e dopo di lui Antropo e Cernenko che però durarono molto poco. La svolta decisiva si ebbe nel 1985 con la salita al potere di Mikhail Gorbachev facilmente riconoscibile anche da questa voglia vistosa sulla fronte. Negli anni 80 l'Ursa attraversava un periodo di grave crisi sia dal punto di vista economico che politico e tutti i limiti del modello sovietico presto divennero evidenti, raggiungendo il culmine proprio con l'esplosione della centrale nucleare di Cernobil. Alla base del disastro cerno sicuramente errori umani, difetti di progettazione ma anche limiti evidenti nel sistema politico, infatti fino alla fine si cercò di tenere nascosta la cosa ritardando anche le notizie. Per tutti questi motivi quindi Gorbachev tentò di rinnovare il complesso apparato sovietico e le sue due parole d'ordine erano perestroika e glasnost. Perestroika significa ricostruzione, ristrutturazione, quindi si indicava tutto un complesso di riforme politiche, sociali e economiche finalizzate proprio al rinnovamento della struttura sovietica senza però rinnegarne i valori fondamentali e l'impianto socialista. Glasnost invece la possiamo tradurre con la parola trasparenza e si riferiva alla libertà di informazione da parte dei media. Per esempio per la prima volta non erano più vietate tv e radio internazionali. In politica estera iniziò una fase di grande distensione nei confronti dei paesi occidentali e degli Stati Uniti. Infatti incontrò il presidente americano Reagan con il quale firmò un trattato per la riduzione degli armamenti. Ritirò le truppe sovietiche dai paesi dell'est Europa che furono lasciati per la prima volta con libere elezioni e per tutti questi motivi quindi gli fu conferito il premio Nobel per la pace nel 1990. Le iniziative di Gorbaciov erano lodevoli però il suo tentativo fallì. Da una parte per le forti resistenze di una parte della vecchia classe dirigente ancora attaccata al potere, dall'altra anche per il peggioramento delle condizioni economiche del paese, ma anche perché i vari stati satellite del patto di Varsavia come la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, Romania, reclamavano maggiori autonomie e anche alcune delle stesse repubbliche sovietiche volevano l'indipendenza, come le repubbliche baltiche, l'Ucraina e così via. L'anno decisivo si ebbe nel 1989 con le prime elezioni libere in Polonia e la vittoria del movimento sindacale di Solidarnosc. Altri regimi socialisti crollarono in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Romania, dove fu rovesciato il regime di Ceaucesco e soprattutto crollò il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda ma anche dell'oppressione comunista. La Germania nel 1990 si riunificò. Seguirono poi altre repubbliche dello stato sovietico che cominciarono a reclamare e a proclamare la propria indipendenza dal governo centrale. Le prime furono le repubbliche baltiche, prima in assoluto la Lituania, ma a seguire non ben presto anche altre. La situazione precipitò nell'agosto del 91 con un tentativo di colpo di Stato che però fallì. A quel punto il 25 dicembre del 91 Gorbachev diede le sue dimissioni e gli successe Boris Yeltsin. Pochi giorni dopo, il 31 dicembre, l'Unione Sovietica cissava ufficialmente ad esistere dopo circa 70 anni. Nascevano anche 15 nuovi stati che avevano proclamato la loro indipendenza. E tra questi i paesi baltici, la Bielorussia, l'Ucraina, il Kazakistan e anche altri.